Salve ragazzi, oggi riguardiamo insieme il proemio dell'Eneide. Ricordatevi che le regole della metrica sono in altre mie video lezioni, in azzurro vediamo le pause, sono sempre pause mediane, tranne al verso 6, dove abbiamo una stranezza, che a volte però in Virgile abbiamo incontrato anche in altri testi, cioè una doppia pausa che isola una parola, Lazio, vedete che è una parola ovviamente chiave di questo testo. Quindi inferretque deos, pausa al terzo accento, quella classica, più una pausa dopo il quarto accento, albanico e patresta, altal temenia e rome. Vedete che abbiamo cancellato la sillaba finale di multum davanti a altra vocale, la E davanti a un'altra E in altri passaggi, con una sineresi, quindi una fusione delle due vocali, oppure se preferite l'elisione di una vocale davanti a altra vocale. Musa mi causas, memoracqua, numine leso, quid vedolens, regina deum, tot volvere casus, vedete che gli ultimi tre versi hanno una doppia pausa, dopo la seconda e la quarta arzi, cioè la seconda e la quarta sillaba accentata. Insignem, pietate virum, tot adire labores, impulerit, tantene a minimis, celesti busire. Traduciamo. Canto le armi e l'uomo, il quale, qui, per primo, a Boris Troie, qui ovviamente le parole non sono nell'ordine che avrebbero nella sintassi in prosa, perché c'è la figura dell'iperbato dovuta anche a ragioni metriche, o anche per far mettere in la parola anticipata il risalto, no? Quindi nel nostro caso Troia, per esempio, il quale per primo, dalle coste di Troia, dunque, a Boris Troie, profugus, profugo, per volere del fato, venit italiam, venne in Italia, e Lavinia, quell'Itora, un altro accusativo di moto al luogo, alle coste Lavinie. Egli, Iactatus, sbattuto per terra e per mare, vi, dalla forza, superum, degli dei celesti. Ob iram memorem, per l'ira memore, di lunga memoria, seve Iunonis, della crudele Giunone. E, dopo aver, passus, e dopo aver sofferto molto, multa, molti dolori, quoque et bello, anche in guerra. Dum condaret, mentre fondava Urbem, la città di Roma, e portava gli dei nel Lazio, inferret deos Lazio, Unde, da cui derivò, sottinteso il verbo, genus latinum, la stirpe latina, e i padri albani, e le alte mura di Roma. Quindi, questi tre, genus, patres e menia, sono i tre soggetti dell'ultima frase, che è una frase relativa, una subordinata relativa, introdotta da Unde, da cui, e, quindi, imprese dalle quali, eh, vicenda da cui, derivò, sottinteso, e poi, questi tre soggetti. Questa seconda parte, invece, è l'invocazione alla musa, mentre la prima parte, come abbiamo visto, è la indicazione della materia. Io canto l'uomo e le armi, quindi, questo personaggio, Enea, e le armi, e le sue battaglie. Questo personaggio, che non è un eroe, come, diciamo, Virgilio non fa di lui, l'eroe omerico, tipico, che è portatore, o della ricerca, della gloria, no, nella battaglia, lo spietato Achille, e neanche un eroe dell'inganno, come Ulisse. Egli è un eroe leale, è un eroe pius, cioè, insigne per pietà, lo vedremo dopo, nella seconda parte, definito così, il nostro eroe. Un eroe che, quindi, è leale, e soprattutto, viene indicato, in questa parte, come un profugo, un sopravvissuto, che venne, appunto, per volere del fato, in Italia. Egli non scappa da Troia, perché vuole salvarsi la pelle. Egli lo dirà più avanti, nel corso dell'Eneide, che se fosse dipeso da lui, Enea non avrebbe voluto sopravvivere, alla fine della sua città, e della sua gente. Egli è, per volere del fato, un profugo. Eccolo, lo vediamo bene. Ed essendo profugo, ha un passato doloroso, che è un macigno, nel suo animo, e sopravvive, non per sé stesso, ma per realizzare, il destino, e il futuro, del suo popolo. Egli è profugo, per dare un futuro, agli altri. Non vive per sé stesso, Enea. È un eroe del dovere, è un eroe, che non cerca, la realizzazione personale, ma cerca, il futuro, per il proprio popolo, la realizzazione del fato. Egli obbedisce al fato, obbedisce agli dèi, ma soprattutto, mette i valori collettivi, prima della propria felicità individuale. Questo vuol dire pietas, questo è l'eroe, modernissimo, che il nostro Virgilio presenta. Un eroe sofferente, dunque profugo. Poi vediamo al verso 3, sottolineato in verde scuro, il participio congiunto, Iactatus, dopo essere molto sbattuto, essere stato sbattuto, per terra e per mare, sono i primi sei libri dell'Eneide, quelli dedicati, ispirati all'Odissea, cioè ripropongono i viaggi di quest'eroe e il suo essere perseguitato. Ricorderete che Ulisse era perseguitato da Poseidone, qui invece c'è la persecuzione dell'ira memore di Giunone, della crudele Giunone. Ricorderete che in molti passaggi delle opere di Virgilio vediamo questa caratterizzazione negativa degli dèi, che sono spietati nei confronti dell'uomo, ma sono vendicativi. Giunone, ovviamente, ce l'ha a morte col figlio della sua rivale nella contesa del pomo della bellezza. Enea è figlio di Venere, infatti, e quindi la violenza degli dèi lo sbatte per terra e per mare, primi sei libri, dicevamo, e poi i secondi sei libri sono indicati al verso 5, avendo molto sopportato, sopportato molti dolori anche in guerra. Ecco, anche la guerra non è un'avventura esaltante alla ricerca della gloria. Enea combatte soltanto perché è necessario farlo. Egli non si compiace della violenza, è stufo della violenza e di vedere giovani vite sprecate. Egli, ricordate, viene dalla guerra di Troia, dalla distruzione di Troia, è stanco di combattere, non ama la violenza e quindi anche la guerra è sofferenza per quest'eroe. Ed ecco il finale, finché il motivo per cui quest'opera è stata scritta, sapete, è un motivo, diciamo, eziologico ed encomiastico. L'Eneide racconta le origini di Roma, quindi è eziologico, un poema che spiega le cause delle alte mura di Roma, lo vediamo alla fine, e è un poema encomiastico perché esalta nell'origine, in Enea, le origini della Gens Giulia, cioè la famiglia del princeps Ottaviano. E quindi questa prima parte è la materia. Seconda parte, O Musa, ecco, la seconda parte vedete che è l'invocazione, anche questa è la parte tipica, no, è tipico il proeme, è diviso tra enunciazione dell'argomento della materia del poema e l'invocazione alle muse. O Musa, ricordami, ecco, le muse vengono sempre indicate come coloro che ricordano qualcosa di già conosciuto, che sta dentro la mente del poeta, quindi ricordami le cause e dunque per quale quo numine l'eso, per quale divinità offesa o dolendosi di che cosa la regina degli dei in Pulerit. Quindi regina è soggetto, mi sono scordato di sottolinearlo in azzurro chiaro, di queste due complementari, di queste due interrogative indirette che fanno parte certo della famiglia delle subordinate complementari, le complementari. Quindi ricorda per quale Dio offeso o dolendosi di che cosa la regina degli dei in Pulerit decise, fece in modo che e quindi in Pulerit è il congiuntivo perfetto delle due interrogative indirette viste sopra quo equidve e quonumine e quidve sono nel primo caso un aggettivo interrogativo, nel secondo caso quidve è un pronome interrogativo, quindi due interrogative indirette, mentre ovviamente l'eso è un participio ma ha valore di aggettivo, nel caso di Dolenz di nuovo con la figura retorica della variazione c'è il parallelismo perché si usa sempre un participio però c'è anche una variazione una variazione perché è un participio presente e stavolta ha valore congiunto dolendosi di che cosa la regina degli dei in Pulerit volle e poi le due oggettive che l'uomo il soggetto dei due infiniti è sempre virum insignia in pietate l'uomo insignia per pietà vedete abbiamo già spiegato che cosa significa pietas nell'ottica del poema quest'uomo grande per pietà tot volvere casus affrontasse tante avventure e tot a dire labores e sostenesse tante fatiche di nuovo i casus indicano le avventure per terra e per mare della prima parte del poema i labores le fatiche probabilmente meglio attribuite alle fatiche della guerra tanta è nessunt animus celestibus ire tante sono le ire agli animi degli dei agli animi celesti letteralmente quindi agli animi divini cioè agli animi degli dei ecco essendo animus celestibus si può indicare come un dativo di possesso col verbo essere sottinteso possiamo anche tradurre tanta ira hanno gli animi degli dei di nuovo una domanda patetica un commento dell'autore che contemplando le vicende di sofferenza di Enea si chiede se gli dei possano veramente avere concepire tanta sete di vendetta quindi di nuovo una nota negativa sugli dei